Ora i matematici faranno sul caso Gubbio uno studio statistico mentre gli amanti della cabala etichetteranno la città come una anomalia nella legge non scritta che se qui si sono vinti 65 milioni di euro al super enalotto il 22 settembre 2011 e un milione di euro al gratte vinci il primo ottobre 2012 è difficile che qualcosa del genere possa ancora accadere e invece è accaduto stamattina alle 10 e qualche manciata di minuto in più è accaduto quando un signore sulla quarantina imprenditore eugubino è entrato nella tabaccheria berettoni di via del teatro romano a Gubbio e solo per caso ha deciso di acquistare un gratte vinci diventando in pochi minuti il tempo di grattare un milionario verso le 10 e 30 è entrato un signore un caro amico e ha chiesto una marca da volo per il passaporto e un gratte vinci una cosa del tutto casuale perché non li prende mai mio figlio ha scelto quello giusto ecco che gratta vinci e che serie sono dunque sono dei gratte vinci mega miliardario e vengono 10 euro l'uno e ha trovato quello fortunato da un milione d'euro che cosa ha detto quando l'ha grattato e lì per lì ha detto ho vinto mille euro poi ci ha guardato bene mi ha preso sotto braccio e c'era la gente non è riuscito a stare in silenzio proprio ha esternato la gioia e la felicità proprio 35 15 21 18 32 33 i numeri vincenti della sua scheda ma se avesse trovato il 32 avrebbe vinto il premio massimo un milione di euro e il 32 è uscito così per caso inaspettatamente in questo biglietto che era il diciottesimo di una mazzetta da 30 scelto per lui da giordano il figlio del titolare della tabaccheria fa ancora più notizia che a vincere sia stato non un abitue del gratte vinci ma potremmo dire un giocatore distratto occasionale a fronte di tanti che quotidianamente tentano la fortuna sul banco dell'otto e delle lotterie abbiamo avuto vincere da 10 mila euro parecchiucce una da 100 mila questa è un milione d'euro fa la differenza via c'è tanta gente che gioca cifre così importanti 10 euro per acquistare un biglietto purtroppo c'è parecchia gente che gioca e gioca magari più pesantino questo invece proprio gli ha detto proprio bene proprio un occasionale proprio c'è da mai